radio pirata la radio nella radio ed eccoci pronti per una nuova puntata di radio pirata la radio nella radio quest'oggi dalla scialuppa d'emergenza visto che ogni tanto ci troviamo un po in giro e quindi comunque il programma viene realizzato in ogni situazione io sono gabriele nella prima parte mi occuperò di radio lo faremo quest'oggi con alcune notizie dedicate all'attualità dalla svizzera non è tutt'oro quello che è dub quindi torno ancora a parlarvi di questo nuovo sistema di trasmissione nuovo tra virgolette che come ben sapete non è assolutamente tra i miei preferiti ci occuperemo ancora di radio locali dopo la bella intervista con alfredo porcaro di consulenza radiofonica quest'oggi daremo uno sguardo invece ad un'iniziativa molto importante che vede le radio locali alzare la voce papa francesco auspica anche le onde corte per la radio e tra le novità anche la nuova web radio del teatro franco parenti di milano un nuovo progetto molto interessante e torna ancora il dub su radio pirata la radio nella radio sapete come la penso io con questo lo dico ogni volta tra virgolette nuovo sistema di trasmissione è un po sono anni che insomma ci si prova adesso sembra che i giochi stiano arrivando al pettine si aprono delle postazioni c'è la possibilità di ascoltare la radio sul dub ma in tanti paesi il dub viene snobbato se non addirittura non inizia nemmeno il suo percorso vi parlavo invece tempo dietro della velocità e della fretta della svizzera per il passaggio al dub e c'è una bella notizia che è stata pubblicata la settimana scorsa da fm-world.it che si occupa appunto di questo argomento perché la radiofonia svizzera si avvicina al passaggio definitivo al digitale già alcuni mesi fa l'ufficio federale delle comunicazioni l'ufcom ha reso noto che le emittenti radiofoniche pubbliche disattiveranno i trasmettitori in fm in agosto 2022 mentre le radio private avranno tempo fino a gennaio del 2023 per dire stop alla modulazione di frequenza il tutto è dovuto al sensibile calo del seguito della radio analogica che secondo gfk switzerland interesserebbe ormai solo il 13 per cento della popolazione a fronte di una schiacciante maggioranza di utenti digitali da più in testa ma non tutti sono d'accordo c'è stata infatti una levata di scudi di alcuni editori privati che non vogliono rischiare di perdere quella percentuale che ancora segue l'fm approfondendo un po invece su un altro sito molto interessante e soprattutto autorevole che è newslinet.it si apprende della reazione di roger shawinski che è stato un precursore della radiofonia moderna in svizzera nel 1979 imprenditore giornalista ha sfidato le leggi federali con la famosa ed ingombrante radio pirata radio 24 che non c'entra nulla con la nostrana radio 24 è stata un'esperienza memorabile che tuttora esiste che da un'altura italiana pizzo groppera sopra como a cernobbio raggiungeva e copriva con un buon segnale zurigo a oltre 300 chilometri di distanza rompeva le scatole alla politica e al monopolio della radio pubblica con un maestoso impianto di trasmissione che al tempo era tra i più alti e potenti in europa con dei programmi di altissima qualità oggi shawinski è contro l'evoluzione digitale del mezzo o meglio contro il rilascio dell'analogico previsto nel 2022 per le radio pubbliche e dal 2023 come dicevo prima per le private cioè lo spegnimento della modulazione di frequenza sarebbe troppo anticipato troppo presto secondo shawinski la metà delle automobili svizzere non ha infatti il dub installato e rottamare centinaia di migliaia di radio fm non sarebbe ecocompatibile in realtà il pirata 75enne roger shawinski è considerato da sempre spregiudicato e quindi possibile che queste sue esternazioni siano mosse da intenti che vanno forse oltre la sostenibilità ambientale tuttavia è un dato di fatto che lo switch off fm dub plus possa essere un azzardo non comprendendosi perché non si sia preferito in confederazione prolungare lo switch over fino alla morte naturale della modulazione di frequenza resto ancora su fm trattino world punto it che si fa megafono di una iniziativa molto importante iniziativa che viene comunque promossa in vari siti che riguardano appunto la radiofonia buono sapersi soprattutto gli utenti finali gli ascoltatori insomma chi vive chi ascolta la radio penso che possa sentirsi partecipe di una iniziativa del genere le radio locali chiedono maggior sostegno mettendo in evidenza il ruolo che ricoprono sui singoli territori ecco dell'importanza della radio locale abbiamo parlato con alfredo porcaro di consulenza radiofonica la radio locale va ricordato insomma è veramente il fulcro dell'informazione per un determinato settore e c'è questa lettera inviata ai presidenti della camera del senato al presidente del consiglio dei ministri al ministro dello sviluppo economico e ai vari capigruppo della camera del senato e a tutti i cittadini che vogliono un'informazione libera e plurale le emittenti rivendicano l'importanza di tutelare il pluralismo che centinaia di realtà garantiscono in tutta italia le radio libere le radio locali sono nella storia e nella vita quotidiana degli italiani una componente fondamentale del pluralismo delle voci nell'informazione come voluto dai nostri padri costituenti ma risentono più degli altri media di un sistema sbilanciato sulla tv sui quotidiani cartacei a loro volta sopraffatti ormai dai cosiddetti social media con il loro carico di contraddizioni e rischi rispetto alle quali le radio libere e locali sono presidio di democrazia si denuncia infatti questa visione miope del sistema della comunicazione che sta condannando le radio libere e locali all'estinzione gli ultimi governi hanno prima rinviato e poi abbandonato l'idea di una legge di riforma del sistema dell'editoria anzi a seguito di spinte demagogiche e populiste si è tentato di punire tutte le voci libere dell'informazione tra queste ovviamente le radio locali i dati ultimi sono allarmanti la pandemia ha colpito in profondità il sistema economico e la crisi si è scaricata soprattutto sul sistema radiofonico più che su altri mezzi nel contempo la risposta del governo è stata parziale e insufficiente lo stanziamento di 50 milioni di euro per la trasmissione di spot e comunicati di servizio pubblico un sostegno che per l'85 per cento dello stanziamento è andato alle emittenti televisive in questi giorni è stato approvato dal senato il disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto sostegni il provvedimento è ora in attesa di conversione definitiva alla camera il decreto è addirittura peggiorativo prevedendo la riduzione del contributo da 50 a 20 milioni di cui come sempre solo il 15 per cento alle radio locali un sostegno finalizzato anche per i prodotti dell'agenzia di stampa le assunzioni di giornalisti e di personale tecnico e qualificato occupazione giovanile nuove risorse di uomini e di donne di artisti di professionisti dell'informazione e dell'intrattenimento con una modernizzazione degli impianti e delle tecnologie dentro il solco della trasmissione ecologica e digitale tutto questo si spera per recuperare i divari tra generi generazioni e territori come viene richiesto dall'europa nelle azioni del recovery found gli editori radiofonici chiedono nell'immediato sostegni economici ma anche una legge quadro per l'editoria e l'informazione dove la radio libera e locale con le sue mille voci possa continuare ad essere il medium della vita quotidiana di ciascun cittadino uno strumento centrale nel sistema globale della comunicazione per sottrarsi alle voci uniche e ai gruppi dominanti per ulteriori informazioni adesioni contatti per curiosità c'è una mail disponibile che accendiamo le radio chiocciola gmail.com ripeto accendiamo le radio gmail.com secondo me è molto importante farsi sentire anche con qualche commento con qualche idea perché davvero la radio libera la radio locale è sinonimo assoluto di democrazia insomma c'è poco da dire quando ci sono tante voci esiste una democrazia quando ci sono solo pochi gruppi questa democrazia viene cancellata su radio pirata alla radio nella radio torniamo a parlare di radio e torniamo a sperare sulle onde corte papa francesco alla radio vaticana ha dichiarato il nostro lavoro è per arrivare alla gente perché quello che si fa qui quello che è bello e grande e faticoso arrivi alla gente sia con le traduzioni sia anche con le onde corte italaradio il famoso portale che si dedica alla radiofonia italofona nel mondo italaradio.org evidenzia un'interessante notizia che riguarda appunto radio vaticana e anche le onde corte su vaticanews.va c'è un articolo molto interessante lo trovate nella versione integrale il titolo è francesco ai media vaticani siate funzionali e creativi per arrivare alla gente firmato da alessandro di bussolo in questo articolo viene descritta la visita del papa che si è recato a palazzo pio sede delle redazioni dell'osservatore romano e di radio vaticana vaticanews dove ha incontrato la comunità di lavoro del dicastero per la comunicazione in occasione dei 160 anni del giornale e dei 90 dell'emittente una stretta di mano e un sorriso per ognuno dei 300 dipendenti del dicastero per la comunicazione che lavorano appunto a palazzo pio e nelle altre sedi e per qualcuno anche una parola e una battuta a tutti papa francesco ha rivolto l'invito in diretta sul canale italiano di radio vaticana a cercare di arrivare alla gente papa francesco ha partecipato all'inizio della riunione di redazione del giornale della santa sede e ha pregato nella cappella dell'annunciazione è intervenuto in diretta alla radio e infine ha parlato al prefetto al direttore editoriale ai direttori di testata e ad una rappresentanza di giornalisti della radio e di vaticanews in sala marconi ha solo una preoccupazione che gli tocca tanto il cuore quanti ascoltano la radio e quanti leggono l'osservatore romano il nostro lavoro ha detto il papa è per arrivare alla gente perché quello che si fa qui che è bello e grande e faticoso arrivi alla gente sia con le traduzioni ma sia anche con le onde corte a quanti arriva si chiede il papa perché c'è il pericolo per tutte le organizzazioni di una bella organizzazione un bel lavoro ma non arrivi dove deve arrivare un po il racconto del parto del topo la montagna che partorisce il topolino tutti i giorni fatevi quella domanda continua a quanta gente arriviamo in sala marconi a tutto il dicastero papa francesco si dice contento per aver visto tanti dipendenti e soprattutto le redazioni giornalistiche si complimenta per lo spirito di unità tutti insieme dice tutto è ben sistemato questo mi piace questa l'unità del lavoro un sistema così grande complicato deve però funzionare veramente bene è importante chiarisce che tutta questa bellezza tutta questa organizzazione funzioni al meglio ad oggi purtroppo l'unica finestra informativa in italiano in onde corte della radio vaticana è solo dal lunedì al sabato dalle 6 alle 6 10 utc sulla frequenza degli 11.620 kHz ma speriamo sempre che possano tornare ad allargare alcune fasce di trasmissioni già lo fanno per determinati paesi ma anche la presenza della lingua italiana potrebbe essere veramente interessante per cercare in qualche modo di scoprire e di riscoprire le nostre amate onde corte dalle onde corte al web su radio pirata la radio nella radio a questo punto vi parlo e vi segnalo una bella iniziativa nuova nuova che riguarda parenti on air che cos'è parenti on air.it parenti on air è una piattaforma digitale multimediale che propone video di spettacoli teatrali e contenuti culturali come conferenze interviste backstage d'autore molti dei quali realizzati ad hoc per restituire con una regia videodinamica innovativa tutta la magia del teatro e far conoscere al pubblico anche il dietro le quinte degli spettacoli ma non solo perché parenti on air è anche e soprattutto radio radio parenti il nuovo progetto al quale la direttrice del teatro franco parenti di milano andrea ruth chamma pensava da tempo perché la radio ha dichiarato viaggia con la voce è la parola che evoca che accende la fantasia che invita all'ascolto ecco questo è sicuramente il riassunto della radio radio parenti propone un'ampia selezione di trasmissioni e di podcast in parte realizzati appositamente e in parte selezionati dall'archivio del teatro franco parenti ed elaborati e rieditati appositamente per questo nuovo sistema una congiunzione unica e nuova tra il mondo del teatro e quello della radio la radio è amica del teatro non lo sostituisce ma ne allarga la prospettiva un palinsesto giornaliero dunque con un flusso continuo di contenuti tra radiodrammi interviste rubriche gioielli di repertorio speciali dal dietro le quinte una radio libera e gratuita per tutti unica al mondo ad essere ideata e realizzata da un teatro una vera radio con i jingle con degli annunci con gli stacchi e con i podcast tutto nello stile del parenti con leggerezza e profondità e condivisione di passioni per scoprire appunto nuovi punti di vista non mancherà anche il coinvolgimento del pubblico e degli artisti dalle sale e dagli spazi del teatro franco parenti il direttore responsabile di radio parenti è un volto noto e prestigioso nel panorama del giornalismo italiano cristian rocca direttore editoriale dell'inchiesta con la cappa e colonist della stampa rocca ha inoltre diretto il magazine il ed è stato anche editorialista del sole 24 ore capo redattore inviato e corrispondente dagli stati uniti per il foglio e ha scritto sette saggi di geopolitica sulla società contemporanea partner tecnico e questa credo che sia veramente la cosa molto interessante per la produzione audio e radio è la bv media un'azienda leader del settore broadcasting il project manager roberto zecchara si è occupato del coordinamento del canale della produzione dei contenuti radiofonici lavorando a stretto contatto con la radio in un percorso che ha visto la scelta la digitalizzazione e l'ottimizzazione radiofonica di contenuti inediti di repertorio quindi proprio un format creato su misura e ad hoc per la radio web in questo caso l'indirizzo lo ricordo è parenti on air punto it